Novità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale extraurbano in Molise. La Sati ha avviato in via sperimentale un servizio a chiamata che interessa i comuni di Montagano, Limosano, San Biase e Sant'Angelo Limosano. I cittadini dei quattro comuni interessati possono usufruire del servizio a chiamata effettuato con l'impiego di un moderno minibus da nove posti nelle fasce orarie 11.13.30 e 14.30.17 per gli spostamenti tra i comuni con la possibilità di usufruire a Montagano della coincidenza con gli autobus di linea diretti a Campobasso. Gli utenti possono effettuare comodamente la prenotazione della corsa di loro interesse contattando entro le ore 17 del giorno precedente il call center aziendale dedicato. La sperimentazione è stata annunciata dal presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante della Sati Vincenzo Peca. La proposta progettuale presentata dalla società di trasporto pubblico locale extraurbano in collaborazione con diversi partner è risultata ammissibile al finanziamento. Il servizio a chiamata è stato reso possibile grazie ai fondi stanziati con decreto ministeriale 417 del 28 dicembre 2022 per i cosiddetti servizi di sharing mobility, complementare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale all'esito di un avviso pubblicato dalla regione molise.